Un trentenne di Fiorenzuola è stato condannato a due mesi di detenzione, sospesi con la condizionale e sostituiti con 3.000 euro di multa, per aver lasciato morire il suo cane nel cortile dove lo teneva. L'uomo incensurato non si è opposto al decreto penale di condanna che quindi è diventato esecutivo. Alla base delle indagini e della denuncia che risalgono al febbraio dello scorso anno, l'azione dell'ente nazionale protezione animali e delle guardie zoofile. Il cane è registrato all'anagrafe canina con il nome di Otto, era morto diverso tempo prima del ritrovamento per occlusione intestinale. Non essendo più nutrito dal suo padrone, il cane aveva ingerito legno e lattine nel tentativo di cibarsi con quello che trovava in giro. Di razza, era un corso di sette anni, era diventato magrissimo fino alla morte. Le guardie zoofile, in qualità di polizia giudiziaria, avevano aperto l'indagine e presentato denunce alla procura. Il proprietario si era giustificato dicendo che il cane si era lasciato morire dopo la morte della cagnolina con cui si faceva compagnia. Nello stomaco erano stati ritrovati circa mezzo etto di piccoli frammenti di legno, lamine di metallo di un paio di centimetri, carta e plastica. La data del decesso era stata stabilita in quattro mesi prima del ritrovamento del corpo. Il proprietario aveva dichiarato che era morto invece da un mese.